Allora Laule, come ti stavo dicendo, secondo me i tuoi prezzi sono leggermente elevati in questo periodo, so che è appena passata la crisi economica, però, guarda Ziggs, non sti so che dire, io te l'avevo detto che aumentavano i prezzi, quindi ora o ti vanno bene o ti vanno bene. Allora, sì, ho capito Laule, ma io ho anche del business e io l'unica cosa che posso offrirti è questo. Cioè, comprendi che non è tanto, cioè, devi essere anche un po' nei miei confronti amichevoli. Signore, 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 buon salve, salve Laule anche lei. Lei chi è? Allora, signore, ho ricevuto qualche piccola notizia da parte di alcune persone che lei si è comportato un po' malino. Io male? No, non è vero, ma che sta dicendo? Guarda, l'identikit dice proprio, persona con i capelli bianchi, felpa gialla e pantaloni neri, sei proprio uguale ai denti. No, Laule, no, Laule, vedi, ha la pellina un po' più scura e non ha i capelli un po' pelato. Mi dispiace, mi dispiace, ma se lei però farà la persona gentile e non farà nessun tipo di, diciamo, di resistenza, ecco, diciamo così, resistenza, andrà tutto bene. Mi raccomando, per favore, non faccia resistenza, deve venire con me in stazione e dobbiamo un attimo parlare e poi si vedrà. Come si vedrà? Ma scusi, chi è che ha fatto la denuncia? Ehm, è una signora che probabilmente lei conosce, non so se se ne va a sentire parlare, la signora, come si chiamava? G, mi chiamava per G. Giampiera? Eh sì, sì, Giampiera. Quella lì mi ha denunciato, per quale motivo? Guarda, la signora Giampiera, da quanto mi ha raccontato, ha detto che lei l'ha rinchiusa in una cella al porto. Io adesso non so, però... Non è vero, non è vero! No, signore, 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 deve collaborare, signore, 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 allora, io gli ho detto, se lei faceva il gentile non sarebbe tutta niente. Quindi adesso lei torna qui. No, 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 se ne vada! Devo scappare, ragazzi, devo scappare, se questo mi prende la fine. Via, 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 via. Ok, ragazzi, devo trovare un nuovo alloggio, perché se quello lì mi ritrova è la fine, quindi via per il mare e vediamo un attimo come andrà a finire. Ok, non mi aspettavo che se la signora Giampiera mi denunciasse, quindi questo è un serio problema. E se quello là mi prende penso che non farò una bella fine, quindi devo trovare una soluzione il prima possibile. Quindi magari scappando... Oh, no! Eh, fuga, 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 fuga. Torna qui. A casa mia non posso tornare perché sicuramente già sa l'esistenza di casa mia. Quindi potrei tentare di nascondermi in un nascondiglio che ho preparato qualche giorno fa. Ok, il mio nascondiglio dovrebbe essere qua da qualche parte. Eccolo là, eccolo là, ti prego, dimmi che lo raggiungo prima che mi vede. Ok, qua dovrei essere al sicuro. Oh, no, sta arrivando, sta arrivando. Eccolo, eccolo, ok. Ti prego, dimmi che non mi vede. Ok. L'ho visto qui in giro. Perfetto, perfetto. Mi ha perso, mi ha perso. Ok, in teoria dovrei essere abbastanza nascosto. Oh, no, oh, no. C'è la texture un po'. No, 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 non si è accorto di nulla. Ah, vedo che non si è accorto di nulla. Signore, 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 torni indietro, signore, torni indietro, signore. No, 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 no. Torna in qui. Possiamo parlarne, la prego. E si fermi allora, si fermi, sta soltanto prendendo la attenzione. Ok, allora, allora, mi fermo, mi fermo, mi fermo. Allora. Sono vecchio, ok, non posso fare tutte le stesse cose. Eh, vabbè, non mi interessa se lei è vecchio, mi scusi. A me interessa, allora. Come gli ho detto prima, ok, lei deve soltanto seguirmi in centrale. Ne dobbiamo parlare con la signora Giampiera, ok. Ok. Così facendo, sistemiamo la situazione, ok? E se io mi opponessi? Se lei si oppone, finisce peggio, ok? Ok. Io le consiglio di seguire quello che le dico. Ok, ho capito, possiamo andare. Le chiedo gentilmente di ritirare quello che è estratto. Venga, ok. Ma se tipo, ascolti, io ho questi, la potrei corrompere? No, 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 io sono fedele alla legge e levi quell'arma. No, no, la levo, la levo, stai tranquillo che non la tiro più fuori. Io sono fedele alla legge e non mi farò corrompere da un sempliciotto come lei. Io non sono un sempliciotto, ho una prova contraria, ho fatto pirapine e chi ha... Eh, no, nulla, eh... Io che hai detto? Nulla, nulla, lei non ha mai sentito nulla. Ah, comunque, non finito di restrutturare la mia vecchia casa in tutto ciò, non mi manca accorto. Allora siamo quasi arrivati, dai. Ah, ok. Eh, ma, eh, tipo, ma perché mi sta portando in centrale? Eh, perché c'è la Giampiera, dobbiamo parlare con lei. Ah, dobbiamo parlare con lei. Porto la Giampiera, venga. No, come... Eh, va bene, arrivo, 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 arrivo. Ok, via, 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 fuga, 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 fuga. Che sta facendo? Che sta facendo, signore? Via, 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 devo scappare prima che torni, prima che arrivi un suo collega, più che altro. Ok, devo scappare, devo scappare. Oh no, oh no, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, 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 vieni qua, mamma mia, dove scappi? Giuro che non era intenzionale, non volevo fare quello che ho fatto. L'hai messo in un ospedale, cioè, veramente. Ma almeno gli è andata bene, doveva fare un'altra fine in realtà. Doveva fare un'altra fine, ma cosa intendi per un'altra fine? Eh, nulla, nulla. Senti, vieni qua, senti, vieni qua e basta. No, 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 non voglio venire, non voglio venire, non voglio andare a finire in cellap di nuovo. Ti tocca, ti tocca, hai messo uno dei miei compagni in ospedale, ma cosa intende? Beh, non lo so, senti, ascolta, ascolta, va bene, dai, dai. Tanto devo parlare con la signora Giampiere, dai, dai, mi arrendo direttamente, dai, portami. Allora, seguo, seguo, seguo. Allora, Zexon, tu sei accusato, ovviamente, perché devo dirti di queste cose, non puro burocrazia, no? Sei accusato di aver messo in carcere una vecchietta. Ma non l'ho messo in carcere, l'ho solo bloccato in una cella su un porto. Ci sono tutte le telecamere che dicono il contrario. Tutte, tutte, eh, certo, eh. Vabbè, ma nel senso, era una cella su un porto, gli stavo facendo vedere il panorama. Cioè, ascolta, io non volevo, nel senso. No, allora, adesso tu stai tranquillo e parli cordialmente con la signora lì dentro, ok? Oh, no, mi rifiuto. No, no, devi, devi. No, no, mi rifiuto. Oh, ok, ok, ok. Ok. Ah, guarda, qui che abbiamo? Allora, Giampiere, io non so perché tu mi abbia denunciato, io non volevo insultarti, non ho fatto nulla, ti ho solo gentilmente inserito in una cella, in riva al mare pure, quindi dovresti essere contenta. Io contenta? Tu mi eri inchiuso in una cella davanti al mare e in più non potevo muovermi a momenti se adesso pure a piovere e io stavo per affogare. Sì, vabbè, Giampiere, no, più tragica. Cioè, ma signor Doc, si rende conto? Ha completamente ragione, signore, Giampiere. Come? Completamente. Completamente. Allora, stavamo dicendo, Giampiere, potresti gentilmente ritirare l'accusa così questo gentile poliziotto mi lascia andare. Cioè, Giampiere... Io non ti lascio andare, cioè, mi hai messo, compagno, in ospedale. Poi di quello ne parliamo grazie a queste, ok? Non sai che è un'idea? Ok, almeno sei corruttibile in confronto al tuo amico. Va bene, come stavamo dicendo, Giampiere, ora tu mi lasci andare, guarda, se vuoi ti pago pure, tieni tutti i tuoi questi, ma mi devi lasciare andare, ok? Ritira la denuncia e finisce qua. Mai e poi mai, tu mi hai chiuso in quella cella e ora ne pagherai le conseguenze dando puerta in cella. Giampiere, a questa me la pagherai, sappilo. Signor poliziotto, però nel senso... Non avrete visto niente, prego. Signora Giampiera, la possiamo smettere? Mi lascia andare per una volta per tutte? No, mai e poi mai, ora se io rispiro lo porto in prigione a questo ragazzo. Ma nel senso, Giampiera... Eh, no. Torni a Giampiera, vai. No, vai, vai. Va bene, vado, vado, vado. Vai, vai, tu entra, vai, muoviti. Ma ascolti, ma la prego, la prego, parliamone, no, no, la prego, la prego, ne voglio parlare. La prego. No, 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 la prego, guardi, la prego, voglio uscire. Ho ancora una vita davanti. Non ti perdonerò mai per il mio compagno. La prego, no, dai, la pago. Grazie, ma no. Allora, allora, in questo momento cosa posso fare? Allora, fatemi ragionare, le mie possibilità sono poche. Se uso questa, diciamo che fa un bel po' di baccano e non mi conviene anche perché ho una telecamera dietro di me che mi fissa. Ciò vuol dire che devo ragionare in altre maniere, quindi questo penso che non mi sia utile. La mia ricchezza nemmeno, però ho i Grimaldelli. E penso che lui abbia messo un lucchetto. Se riuscissi a intravederlo da qua dentro, sarebbe una cosa ottima. Sì, signor poliziotto, mi scusi? Sì, sì. Ma per caso lei mi ha chiuso con un lucchetto? Certo, come faccio? Ah, ok, no, no, grazie dell'informazione, eh, grazie. Ok, va bene. No, 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 non si faccia domande, lei. Ok, e a questo punto direi che è il momento di spegnere le luci. Almeno non pensa che stia dormendo. Anche te, telecamera, non mi fissare, te, tipo, eh, toh, toh, metti i lingotti davanti, almeno pensa ai lingotti, quello là, che tanto quello pensa solo nella ricchezza. Quindi fai così, tanto, ok. Almeno così non mi si vede. E a questo punto devo capire come sbloccare... Oh, ok, forse non andrà tanto bene. Questo non è, questo nemmeno, questo nemmeno. Quindi gli ultimi non sono, devo capire la combinazione, ok. Uno, dai, dov'è il secondo? Il secondo ci sarà pur da qualche parte. Due, ok, tre. Oddio, non ci credo, ci sto azzeccando. Dov'è il quarto? Il quarto, il quarto, maledizione. Due, sì, no, io, io, nulla. Sto sentendo un po' di flicchi filicchi. No, no, è la signora Giampiera che si sta mettendo il trucco. Si sta mettendo... Oh, mamma mia, ma lei è allergica al trucco. Arrivo. Vabbè, vado, 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 grazie mille. Ok, quindi ora che ho distratto il poliziotto, torniamo a noi. Facciamo così, così, così. No, era questo. Ora devo capire qual è il quarto, ok. Quinto, quale sarà? No, ok, quinto ho trovato. Ora devo trovare il sesto, che secondo me è questo qua. Poi questo, no, scherzavo. Allora è questo qua. Poi questo qua, no, scherzavo, è questo qua. Devo rifare tutto a capo. Quindi, in teoria, uno, due. Non è niente, questi grimaldelli sono fatti di diamante, ma a me stavano fatti di ceramica. Ok, così poi era, in teoria, questo qua. No, questo qua, allora, no. Questo qua, no. Qual è? Quale cavolo era il terzo? Questo, ok, quindi uno, due, tre. Forse era questo il quarto, ok. Cinque, sei, sette, otto, nove. No, allora questo è il nono. Dieci, dieci e undici. Ok, in teoria, ora questa porta aperta. Fammi rubare pure il lucchetto. No, ok, è lì, via, via, via. Piano, piano, piano. Se lui mi nota la fine. Aspetta che lo vado a chiudere in bagno, in bagno, in bagno. Ok, anzi, prima di andare da lui, voglio un attimo vedere, perché qua ci sono degli armadietti. Uh! Ah, ma qua i poliziotti sono armati! Quindi, allora, sicuramente mi rubo questo. Sicuramente con i suoi colpi. E poi, vabbè, non penso ci sia altro di utile. Magari questo mi può tornare utile. Quindi mi prendo questo. E ora, quello che devo fare è prendere questi. Magari qua dentro. Oh! Ok, questo è molto interessante. Ora vado a chiudere il poliziotto così. Perfetto. Signor poliziotto, addio! Sì, cosa? Addio! Ma, ma cosa? Ma che non è possibile? Così, così, così. E ora fuga, 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 prima che mi rintracciano. Ok, via, via, via. Eh, ti troverò sicuramente. Sì, 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 ci creda, ci creda, ci creda. Ok, allora ragazzi, devo ragionare su un nascondiglio impossibile per rintracciarmi. Un nascondiglio impossibile per rintracciarmi potrebbe essere quello di nascondermi magari in mezzo alle balle di fieno. So che così potrebbe sembrare strano, ma in realtà è una delle migliori opzioni. Quindi, in teoria, l'aule dovrebbe avere qualcosa che mi permette di fare questa azione qua. E se realmente è così, potrebbe essere una reale svolta. L'aule, ho bisogno di te. L'aule, dimmi tutto, cosa vuoi, Zickson? Eh, ascolta, ho un piccolo problema. Allora, sono inseguito dagli sbirri. Avrei bisogno di qualcosa che mi permetta di nascondermi. E so che te hai un dispositivo che permette di trasmutarsi nei blocchi. Sì, ce l'ho, va bene, te lo lascio, ma solo per questa situazione. Va bene, grazie, l'aule. Anzi no, Zickson, in realtà, guarda, l'ho finito. Come l'hai finito? Ma sei serio, l'aule? Eh, sì, mi dispiace. Maledizione, l'aule, credevi in te. Ok, bene, l'aule non mi può dare una mano, questo è un serio problema. Perché l'aule è l'unico che conosco che ha utensili molto utili. Quindi dovrei provare a vedere in casa mia se mi è rimasto qualcosa prima che lo sbirro si liberi. Ok, ragazzi, dalla mia vecchia casa ho recuperato questi strumenti qua. Quindi me li dovrò far bastare perché non ho altro. E ora devo solo decidere dove crearmi la mia zona sicura. Quindi magari la potrei fare, tipo, verso questa direzione qua. Tipo mi vado a rubare questi blocchi qua, che tanto questa è una casa ormai abbandonata perché quelli che vendevano i componenti del pc ormai si sono trasferiti. Quindi mi dovrò arrangiare con quello che ho. E a questo punto potrei andare a creare una stanza segreta. Segreta è un parolone, cioè più che segreta, sicura. Tipo qua, in riva al mare, che alla fine è in riva al mare, pure carino, bello coccoloso. Quindi prima di tutto piazziamo qualche mina, così lo sbirro. Se le vede è ben per lui, se non le vede, beh, sarà un problema. Poi scendo qua sotto e mi faccio tipo una scalinata. Ok, ora qua si va di piccone e qua mi devo creare la stanza. Quindi usiamo questo layer, quindi mettiamo qua la porta. Qua iniziamo a sostituire tutto con questi blocchi. Qua piazziamo delle telecamere perché se arriva lo devo vedere. Quindi magari ne piazziamo una anche tipo, attenti alle mine. Quindi qua. Alla stanza tenendo sempre attenti alle mine che possono esplodere da un momento o con l'altro. Ora me ne vado qua sotto, mi continuo la mia stanza. Mi piazzo anche un laser qua, con una modifica che permette di inviare un segnale di redstone. Che forse in realtà è già integrato, quindi metto direttamente l'allarme. Qua vado a chiudere il tutto in questa maniera. E ora qua, quello che vado a fare molto semplicemente è che non ho più nulla per proteggermi. Quindi vabbè, mettiamo un'altra telecamera qua e mi arrangerò con quello che ho. Ok, bene, qua dovrei aver finito anche la mia postazione. Beh, sì ragazzi, cioè io senza postazione non vivo, ok? Ok, quindi controlliamo le telecamere. Ok, oh no, oh no, è qua fuori. Oh no, se questa arriva dove sono io alla fine. Ti prego dimmi che non arriva, vediamolo da più vicino. Salve. Ok, la telecamera 2 non funziona più, non... Oh, ora capisco perché non funziona più. Meno male che ho il cappotto. Ma come fa quello ad essere ancora vivo in tutto ciò? Vabbè, grazie a Dio la mia porta dovrebbe aver retto l'impatto. Infatti è ancora là sotto, bella intatta. Ma anche la telecamera 3 se n'è andata, quindi mi è rimasta solo questa. Oh no, sta arrivando, sta arrivando. Ehm, ehm, ehm... Togli sta sedia che mi sono pure baggato dentro la sedia. Ehm, sì? Ehm, ma ci sei tu, Zexo? Ehm, no, non ci sono io. Ehm, ehm, sì, no, beh, può andarsene. Ehm, ehm, no, no, io sto giocando solo al mio PC, guardi. Guarda che io passo, eh. Ehm, vede, 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 ha attivato pure l'allarme. Io, ma guarda, lei deve tornare immediatamente in carcere. Cosa ci fa qua? Vogliamo mettere un fucile contro un pompa? In testa fa male, eh. Allora, va bene, va bene, dai, dai, dai. È riuscita a trovarmi? Va bene, lo ammetto. È più forte lei. Dai, dai, mi porti dove devo andare. Eh, andiamo, andiamo. Va bene, va bene, vado, vado. Signor poliziotto, possiamo evitare che mi punta un fucile contro? No. Eh, la posso comprare con un panino? Vai. Aio, ok, ok. Sì, ma eviti di spararmi gentilmente. Mamma mia, va bene, va bene, vado, vado, vado. Eh, arrivederci, Giampiera. Ma, 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 però non è giusto così. Vai dentro, non mi interessa. Anche lei ha commesso dei crimini. Io, io sono un poliziotto. Ma non lei, intendo Giampiera. No, ma, Giampiera, Giampiera è una grandissima persona. Non ha mai commesso niente nella situazione. Ma, va bene, guarda, va bene. È ora, è ora, è ora, è ora, no, è ora, non esce più. Eh, sì, è sì. Ma, 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 signor poliziotto, dai. No, non esce più, non esce più. Va bene, allora andrà di maniera più forte. Va bene. Quindi, rompiamo tutti questi. Ok, allora, bene, ragazzi. In questo momento ho una sola dinamite. La dovrò usare benissimo, perché se sbaglio... Beh, non avrò più di fila e di fuga. E sicuramente non avrò secondo i tentativi. Quindi prima di tutto giubbotto antiproiettile Anche se non so quanto mi possa servire E incrociamo le dita Quindi pronti con la dinamite 3, 2, 1 Fuochi da 3 Non ha funzionato Ne lancio un'altra Ne servono un po' qua Ok tipo così Perfetto Sfondiamo per benino Oh là Perfetto Ora via Sapevo Eh io lo sapevo Io lo sapevo Certo Certo Vuole ritornare Ho una cella perfetta per lei Ho una cella perfetta per lei Ho una cella perfetta per me Allora io le sfondo alla centrale Ma che fa Aia Va bene va bene va bene Torno dentro torno dentro Va bene vediamo la cella inscappabile Da cui non posso uscire Ma ve la prego signor poliziotto No 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 Eh io le leggerò un po' le celle Va bene e io la sparo in testa No 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 E allora allora E allora va bene va bene Vado dentro vado dentro Allora allora E allora scapperò No ma ma mi scusi La prego Va bene e io scappo Ma no ma 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 la userò le dinamiti Ma una fortuna No come neanche le dinamiti funzionano È tutto rinforzato signore Oh qua dietro non è rinforzato Ok così Così Ok Ora mi rubo questa trapdoor Ok così Troppa questo che non mi serve Pure questo Lascia pure questo E stavolta sicuramente Non avrà il tempo di raggiungermi Quindi trapdoor qua Via così E fuori Eh dicevo Eh io Non la Non dicevo nulla No 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 Guardi Guardi io non sono mai uscito Cioè nel senso Cioè Possiamo riparlarne No No La prego Per favore No 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 Dai No no Ma dai no Bene e da qua mi sa che non esco più Ragazzi se avete qualcosa per consigliarmi come uscire da qua Fatemelo sapere perché io non ho veramente idea di come uscire Quindi niente Mi sa che mi toccherà rimanere qua Finché non trovo una via di fuga Grazie a tutti